In questa nuova serie di tre micro video voglio parlarvi di alcuni trekking che ho fatto negli anni passati sul lago di Seo, provincia di Brescia e Bergamo. Le uscite erano finalizzate semplicemente a passare un pomeriggio piacevole e a camminare un po', quindi non sono stato in grado di registrare tutte quelle clip necessarie per andare a creare un mio classico video, ma le camminate erano comunque interessanti, c'erano numerosi spot fotografici e così ho sentito il desiderio di provare a parlarne in un altro modo con voi. Lo so, questo contenuto si sposerebbe veramente molto bene con un blog, ma credo che anche in video possa creare qualcosa di informativo e utile. Non lo so, è un esperimento e noi ci proviamo. Voglio dividere tutto questo in tre video, sia per una questione di migliore indicizzazione, sia perché così voi potrete andare a selezionare solamente il video che vi interessa e il trekking che più vi interessa e che volete fare. Quindi noi siamo pronti, partiamo! Vi lascio sempre qua sotto in descrizione la traccia GPS del sentiero di cui vi sto parlando. Mi affido a Wikiloc, che è un sito veramente molto completo e utile per andare a tirar fuori le informazioni fondamentali di ogni singolo sentiero. Io lo uso spessissimo e quindi sì, lo userò anche stavolta perché credo che sia uno dei migliori. Il primo percorso è quello che ci conduce dal comune di Zone a Corna Trentapassi, una montagna di 1248 metri che sovrasta la parte nord del lago di Sio, garantendo una vista veramente fantastica nelle giornate più limpide. Lo spot fotografico è usato moltissimo nei tramonti, quindi decido di partire nel primo pomeriggio per cercare di cogliere al meglio la Golden Hour. La cosa migliore da fare in questo caso è portarci a Zone direttamente in macchina. La strada è veramente semplicissima e non presenta nessun tipo di difficoltà. Da lì, sempre in macchina, ci portiamo in località Cusato. Qui ci sono molti parcheggi gratuiti, sia a lato della strada, vicino alla chiesetta, e c'è anche un parcheggio proprio all'inizio di via Marcolano appositamente pensato per gli escursionisti. Vi consiglio di parcheggiare lì perché è anche quello il punto di partenza del nostro sentiero. Possiamo considerare quindi via Marcolano il punto di partenza del nostro sentiero, il quale sarà lungo 3 km, a seconda delle varianti, solo andate, quindi 6 anche il ritorno, per circa 600 metri di dislivello. Quindi una cosa veramente molto semplice. In circa un'oretta e 20 sarete su. È classificato come escursionistico esclusivamente per l'ultimissimo tratto, che è un po' ripido e un po' scivoloso, ma comunque non pericoloso, non ci sono assolutamente tratti esposti o zone particolarmente difficili. La prima parte del nostro sentiero è essenzialmente una mulattiera e in 30 minuti ci porterà verso la cascina Coloreto. Qui c'è già la prima variante. Infatti girando a sinistra possiamo tagliare in maniera molto più diretta nei boschi per arrivare più rapidamente alla vetta. Il sentiero assegnato però prevede di aggirare la cascina e salire più dolcemente un po' più avanti, arrivando alla forcella Coloreto. Da qui si inizia a intravedere una parte del lago di Seo e la vista non fa che migliorare man mano che iniziamo a salire. Dalla forcella i cartelli diventano molto più chiari. A sinistra c'è Corna 30 passi, passando prima per l'anticima est e poi per la cima vera e propria. Quindi qui il sentiero si trasforma per l'appunto in un sentiero vero e proprio, non è più una mulattiera e la pendenza aumenta leggermente. Questo fino al raggiungimento di un bivio con un cartello molto chiaro che ci indica a destra Corna 30 passi. Quest'ultimo tratto è quello leggermente più complesso che ci permette di guadagnare la maggior parte dei metri di dislivello. Non c'è nessun tipo di pericolo, bisogna solo fare un po' di attenzione, soprattutto durante la discesa. Una volta arrivati sulla cima c'è una croce, un piccolo spiazzo magari per fare un picnic e poco altro. Ma girandoci indietro la vista è questa. Io sono sempre stato accolto da molta foschia le due volte che ci sono salito, ma sono convinto che durante una giornata particolarmente limpida debba essere assolutamente magico godersi un tramonto da quassù. Attaccato alla croce inoltre c'è una piccola cassetta con il diario di vetta. Non so se visto la situazione covid questo sia stato rimosso, però quando ci sono andato due anni fa c'era. Veniamo alle varianti, forse avrete notato che qui c'è un altro sentiero che sale e che arriva effettivamente anche quest'ultimo da zone, quindi può essere utilizzato come alternativa per salire o come un modo per differenziare la discesa, facendo una sorta di giro ad anello. Una volta sulla cima, tra l'altro guardando verso nord, noterete l'anticima nord di Corna 30 Passi. Ecco, tutti questi luoghi sono comunque raggiungibili da un altro sentiero che si allunga molto e arriva fino al paese sul lago di Toline. Questo può essere visto come un'alternativa per fare una salita diversa. Il sentiero è classificato in questo caso come escursionisti esperti, è molto più ripido, il dislivello aumenta molto e ci sono anche parecchi punti esposti. L'ho sentito consigliare da molti, ma io non ci sono mai andato, quindi posso semplicemente riportarvi il fatto che esista. Passiamo ai consigli fotografici. Come già detto, il posto è assolutamente consigliato durante il tramonto. L'alba è leggermente coperta da tutte le montagne che si trovano ad est, quindi non penso che si possa accogliere alla perfezione quel particolare momento. Per il tramonto, durante l'inverno, il sole appunto si sposta molto più a sud e va più o meno a coincidere con la punta sud del lago di Isio, quindi i riflessi si vanno a creare direttamente sull'acqua e guadagniamo anche qualche minuto di luce, quindi è una situazione assolutamente consigliata se volete aspettare fino all'ultimo e scattare con gli ultimi raggi di sole. In estate purtroppo il sole si sposta molto più a ovest, quindi andando ad essere direttamente coperto dalle montagne che si trovano dall'alta parte del lago, quindi una situazione un po' sfavorevole che ci taglia completamente la golden hour generalmente. Quindi assolutamente consigliato il tramonto e si riuscite in periodo invernale. Scendere al culbuio non è assolutamente complicato tranne per l'ultimo tratto che forse è un po' scivoloso ma comunque basta usare una torcia e fare un po' di attenzione. Tutto l'altro tratto di sentiero, quello che vi ho descritto in precedenza, è veramente molto semplice se fatto in discesa e in meno di un'oretta praticamente salete di nuovo al parcheggio di partenza. Bene, questo era il primo trekking che volevo consigliarvi di fare in questa zona. Sì, lo so se e quando aprirò un blog sarà quella la sede migliore per portare questo tipo di contenuto ma per ora questi video credo che siano un valido modo per andare a parlarvi di qualche sentiere, qualche posto che altrimenti non riuscirei a portare qua sul canale. Ci siete stati? L'avete già fatto? Avete delle varianti da consigliarmi? Scrivete tutto qua sotto nei commenti. E noi ci vediamo mercoledì, sì perché questi video voglio condensarli un po' di più quindi facciamo domenica, mercoledì e la domenica dopo. Quindi ci vediamo mercoledì alle 13.30.